Allora buongiorno a tutti, il presidente Acquaroli sta per arrivare quindi mi ha incaricato di dare via a questa conferenza stampa, quindi è una conferenza stampa, un incontro con i giornalisti per presentare le attività dell'azienda sanitaria territoriale di Fermo. Ringrazio i presenti, il segretario della Lega Mauro Lucentini, l'onorevole Lucentini e Marin Angeli, consigliere eletto nella provincia di Fermo e naturalmente tutti i dirigenti che sono con grinta, poi lui magari li presenta e spiega anche che cosa fanno. Allora non so se il sottosegretario o il dottor Sardio vuole intervenire, io farei, quindi se deve intervenire Aldo o prima o dopo, va bene. Allora io passerei subito la parola al dottor Grinta che presenterà delle slide e siccome è una conferenza stampa, poi se i giornalisti vorranno chiedere e presentare le domande, le osservazioni o approfondimenti, noi siamo qui chiaramente per rispondere. Prego dottore. Grazie Assessore, grazie Aldo, buongiorno a tutti. Prima di tutto oggi mi hanno accompagnato con me nel mio lavoro il direttore sanitario il dottor Andrea Vettrini, presente, e il direttore amministrativo il dottor Alberto Carelli. E' importante questo momento perché è un momento di confronto, di farne uscire fuori le attività che vengono fatte nelle varie aziende sanitarie. Le varie aziende sanitarie che hanno una mission e una vision già definita, la mission è quella di produrre salute e la vision è come sarà poi la salute nei prossimi anni e come le aziende sanitarie dovranno poi stabilire e indirizzare i loro vicini. La legge regionale numero 19 del 2022 dell'8 agosto che ha individuato le caratteristiche di un'azienda sanitaria, tutti gli effetti con le figure centrali che sono il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo. Poi abbiamo anche il collegio sindacale, un organo importante che ci fa il controllo sul buon funzionamento di un'azienda. L'organizzazione delle aziende sanitarie è un'organizzazione di tipo dipartimentale, più ci sono dei dipartimenti, quelli strutturali per legge, che è il dipartimento di salute mentale, dipartimento delle dipendenze patologiche e il dipartimento di prevenzione. L'interessante è che l'attività territoriale è svolta dal distretto e nell'azienda sanitaria territoriale abbiamo un solo distretto, può essere un punto di forza ma nello stesso tempo può essere anche un punto di debolezza. Come possiamo vedere la popolazione è una popolazione di circa 170 mila abitanti, come vedete l'indice più o meno di invecchiamento se noi vogliamo classificarlo sopra i 65 anni rappresenta il 28%. Quanti dipendenti? I dipendenti sono circa 1684, come vedete il 71% è di tipo sanitario e questo 55% è concentrato soprattutto in ambiente ospedaliero. L'azione importante è che nel 2023 rispetto al 2022, grazie anche alle politiche della regione, dei nuovi finanziamenti che ha permesso di aumentare le dotazioni organiche e quindi sempre non superando il tetto di spesa, abbiamo assunto 318 professionisti. Quindi abbiamo avuto un 21% in più rispetto all'anno 2022, concentrato molto, vedete sugli infermieri il 26% e comunque vedete anche la parte degli operatori sociosanitari sono il 13% di cui poi abbiamo anche i dirigenti medici l'8%. Un'altra cosa, un altro indice importante sono i rapporti che si hanno con i sindacati, tutto questo qual è il fattore determinante che ci individua il rapporto con i sindacati? Si è la contrattazione aziendale e grazie soprattutto anche alla parte del direttore amministrativo, del direttore sanitario che hanno fatto un assiduo lavoro, si è costruito, si sono raggiunti dei rapporti nel contratto integrativo sia dell'area del comparto che dell'area della dirigenza. Quindi abbiamo portato a casa degli ottimi risultati di contrattazione. Poi si è approvato il nuovo regolamento aziendale sulla mobilità esterna, gli incarichi di funzione, il nuovo regolamento sul lavoro agile, la nuova regolamentazione dei tempi di investizione, cosa molto importante perché erano problematiche che erano vecchie da diversi anni che il sindacato ci chiedeva in maniera intensa. E grazie al lavoro fatto in maniera costante e pedissequa siamo riusciti a colmare queste problematiche grazie anche a una buona amministrazione dei conti. Come vediamo la parte della produzione dell'azienda, abbiamo circa nel 2023 fatto 12.000 ricoveri, di cui il 50% è la parte chirurgica. Ma l'azione importante, come voi vedete, il 78% dei ricoveri è fatto per assistiti della provincia del Fermano, il 15% per assistiti fuori della provincia di Fermo ma nell'ambito della regione e vedete il 7% per quanto riguarda la mobilità extra regionale, cioè degli assistiti fuori di regione che vengono nella nostra azienda sanitaria. Una cosa importantissima, vedete quanto il valore, sono aumentati il numero dei ricoveri nell'ambito dell'8,8%, ma il dato sicuramente più significativo è un aumento dei dirigili ad alta complessità del 12%. Quindi l'azienda si è molto concentrata su attività di ricoveri di alta complessità e dando una buona visione per il futuro, ma tutto questo grazie alla presenza dei professionisti che sono presenti nella nostra azienda. L'altra cosa importante, vedete come un altro dato interessante, è che l'attività nel dipartimento medico sono aumentate del circa 1,76%, ma l'azione importante che oggi anche oggi c'era nel sole 24 ore, guardate quanto sono diminuiti la percentuale dei ricoveri inappropriati del 2%, vuol dire che quello che noi ricoveriamo ha un'appropriatezza enorme. Per quanto riguarda il dipartimento infantile, anche qui abbiamo un aumento dell'1,5%, ma guardate quanto è aumentato il livello di complessità dei nostri casi trattati. Ecco il dato anche molto più significativo su una mobilità passiva intraregionale, cioè gli assistiti del Fermano che avevano necessità di assistenza sanitaria di tipo di prestazioni di assistenza ospedaliera, facevano ricorso soprattutto delle aziende esterne, nell'ambito della regione Marche, invece questo è diminuito nel 2023 del 5,4% e naturalmente a questo ha fatto seguito una diminuzione dell'importo del valore del ricovero, ma quello che possiamo osservare è molto importante, come vi dicevo prima, guardate il DRG, cioè il peso medio di complessità degli assistiti del Fermano che vanno verso sempre aziende di altre province della regione Marche, è diminuito nel 2,8%. Tutto questo ha fatto aumentare, vedete la mobilità attiva dell'1,75%, ma soprattutto guardate quanto è l'indice di attrazione per la mobilità attiva extraregionale del 13%. Questo vuol dire che è un'azienda sana che inizia a lavorare non solo per il proprio territorio, ma inizia a essere attrattiva. Indicatori di Algena sono degli indicatori importanti e fondamentali ai cui tutti dobbiamo tendere. E vedete qua, ci sono degli indicatori di esito e degli indicatori di processo, ma sono due indicatori importanti. Questa è la riduzione della mortalità per l'infarto del mio cardio 30 giorni, quando io sono arrivato nell'anno 2020 avevo il 14,6%, la più alta non solo della regione Marche, ma a livello italiano, mentre adesso è scesa al 7,8%, quindi sotto la media nazionale. Tutto questo grazie al grande lavoro che è stato fatto e grazie soprattutto alla regione e all'assessore che ci ha seguito in tutto questo percorso tramite l'attivazione dell'emodinamica. E questo ci ha permesso di ottenere questi risultati incredibili. La stessa cosa la possiamo vedere sulla riduzione della mortalità del tumore del colon a 30 giorni. Vedete che il valore medio è intorno al 4% e l'azienda sanitaria di Fermo ha un valore del 2%. Quindi questo è un indicatore di esito, ma vediamo gli indicatori di attività, un altro indicatore importante c'è soprattutto collegato all'efficienza. Il tasso di ospedalizzazione, noi lo chiamiamo per quanto riguarda lo scompenso cardiaco, è la più bassa delle Marche, una delle più basse, cioè la popolazione del Fermano che necessita di assistenza ospedaliera per un ricordo per scompenso cardiaco, è la più bassa nelle Marche ed è una delle più bassi a livello italiano e così a livello della parte respiratoria per quanto riguarda le malattie polmonari. Tutto questo vuol dire che c'è un buon lavoro fra ospedale e territorio attraverso i medici di medicina generale. Eccolo qua, per quanto riguarda la produzione, sempre dalla parte della specialistica ambulatoriale, abbiamo visto che le prime visite, le visite del controllo 2023 su 2022 sono aumentate del 6% e le prestazioni della specialistica ambulatoriale sono aumentate del 15%. Ma l'ha dato anche interessante, abbiamo fatto sempre grazie alla Regione che ci ha permesso di aumentare il tetto di spesa, ringrazio anche l'assessore che praticamente ci ha aiutato in questo tipo di percorso, dove ha voluto intensamente spingere in maniera forte sulla parte dell'attività territoriale, la presenza della specialistica territoriale a livello dei distretti. Le ore sono aumentate settimanalmente del 21%, soprattutto in tutte le branche specialistiche, ma abbiamo cercato di spingere su dove effettivamente siamo più deboli, fra virgolette, rispetto alla richiesta di domande. Per quanto riguarda gli screening, vedete che abbiamo avuto una forte attività dell'attività di screening, sia per quanto riguarda la mammella, il colon vetto e la cervice uterina. L'epartite C è un progetto che la Regione ha aderito ed è partito nel 2023, già sono stati effettuati più di 1.070 esami, con esami anche di secondo livello. Ma l'aumento ce l'abbiamo dal 59% che va per quanto riguarda la mammella, al colon vetto 33% e il cervice uterine 22%. Ecco un po' la vision che vi volevo dire, abbiamo come voi sapete, abbiamo in progetto, la Regione è molto attenta a seguire i due nuovi ospedali che stiamo costruendo. Sono due ospedali, quello di Amandola che è classificato come ospedale in zona disagiata, secondo il decreto ministeriale 70 nel 2015 e il piano sociosanitario che già l'ha inserito prevede una medicina generale o lungodegenza, dei salgeri, l'RSA, pronto soccorso e o primo intervento ospedaliero, qui sia importante perché il punto di intervento è un DEA di primo livello che va in base a certe caratteristiche, la POTES, ma la cosa importante è che volutamente io ho cercato di spingere e la Regione, l'assessore lo ringrazio, siamo riusciti a fare inserire i medici medicina generale dentro la struttura di Amandola, quindi porteremo i medici medicina generale dentro la struttura di Amandola e questo ringrazio veramente perché è molto importante. I livelli di investimento vedete che sono circa 6.300.000 di cui il 50% sono le tecnologie, quindi la parte della tecnologia, ma già, grazie sempre alla Regione che mi è venuta dietro e questo ringrazio di nuovo l'assessore, abbiamo già speso 1.745.000 Euro per far sì che i nuovi ospedali possano essere aperti. Per quanto riguarda il nuovo ospedale di fermo, sarà un ospedale di 372 posti letto con 287 posti letto di digenze ordinarie, 32 posti letto di digenze intensiva, 53 posti letto di urno. Il valore dell'investimento è 26 milioni di Euro circa, vedete che anche qui la parte della tecnologia è la parte più importante, ma già, già, sempre, grazie all'aiuto della Regione, già abbiamo acquistato due risonanze magnetiche da 1.400.000 e un mammografo ed un ecotomografo di circa 330.000 Euro. Per farvi capire, cioè la ditta quando arriva sulla parte diagnostica, se noi non compriamo, non abbiamo proprio la parte tecnologica, non ci permette di andare avanti con i lavori, quindi noi ogni volta compriamo in base a quello che ci chiede la ditta. L'ospedale sarà fatto su tre livelli per la maggior parte, di cui la parte, il core vero principale è il primo livello dove ci saranno anche le sale di attività chirurgica. Stiamo definendo già con tutta la parte dei professionisti iniziare a definire la presenza di posti letto e dove dovranno essere indicati. È un ospedale dove prima era nato come intensità di cura, ma gli ospedali per l'intensità di cura hanno una loro filosofia, nel privato noi siamo una struttura pubblica e così dobbiamo essere, abbiamo modificato il livello di organizzazione. Per un epilogo veloce, quindi sono 318 professionisti in più con un aumento del 21%, 12.000 ricoveri, un 12% di ricoveri in più di alta complessità, la mobilità passiva meno 5,4% di ricoveri che si introduce a meno 6,4% del valore del DRC, ma soprattutto un peso medio di complessità più basso. La mobilità attiva sale di un più 2%, ma soprattutto quella extra regionale di un 13%. Le prestazioni sono aumentate del 15%, quelle ammolitoriali e quelle del distrittuale del 16%. Lo screening, come vedete, abbiamo un aumento che va dal 6%, 94-50% e l'epatitc che è partita nel 2023. Qui abbiamo un'altra funzione, il PNRR, che l'azienda sanitaria di fermo in maniera pedistica ha seguito tutte le direttive della regione ed ha rispettato i tempi, i tempi sono certi, sono le due costituzioni delle due centrali operative territoriali, una fermo e una a Monte Granado per un investimento di 646.000 Euro che saranno pronte per marzo. le case di comunità, abbiamo quella di Monte Granado, Petrito, di Sant'Epidemare e Porto San Giorgio per un investimento che vedete che si aggira in totale di 9.6 milioni. È importante anche Porto San Giorgio, abbiamo previsto anche la piscina riabilitativa dove abbiamo anche una forte struttura di riabilitazione che è una struttura pubblica di riabilitazione pubblica, una delle più importanti che sia a livello delle marche ed è giusto che noi teniamo questo tipo di concetto. Per quanto riguarda la parte degli investimenti sul mando abbiamo visto e sull'ospedale di fermo abbiamo già visto. Devo ringraziare anche perché nel tre anno abbiamo anche degli investimenti propri fatti dalla regione perché abbiamo investito nel fienno 4 milioni e 4 di cui il 10% ci ha dato una mano anche la fondazione. È quello che vi stavo dicendo, è il territorio attivo, vivo, è la forte dinamicità che esiste fra l'azienda sanitaria e territoriale e tutte le istituzioni e anche la fondazione è un nostro diciamo partecipa insieme a noi per l'attività sanitaria del nostro territorio e la salute. Questa è la casa di comunità, è la casa di comunità l'unica che c'è nelle Marche che è vera, fatta, costruita e ce la vengono a vedere da tutta Italia, quella di Sant'Epidio Mare, ve lo posso assicurare, è formata non più adesso da 9 medici di medicina generale ma da 11 medici di medicina generale, seguono i 20 posti letto di cura intermedia e quindi i medici vanno anche a seguire i 20 posti letto di cura intermedia, c'è la diagnostica per immagine con un accesso diretto da parte dei medici di medicina generale e la gestione delle patte. Naturalmente tutto questo percorso verrà agganciato alla scompensa di pertenzione di diabete e la BPCO, quei valori che io vi stavo dicendo prima perché c'è una forte presenza sul territorio, tenete conto che loro ci fanno attività medica anche il sabato fino alle 16 del pomeriggio, quindi riusciamo a garantire. E volevo dirvi un'altra cosa, siamo in procinto, stiamo lavorando e a breve attiveremo anche tre punti salute in alcune zone del fermano dove noi le abbiamo già individuate grazie anche al sistema della piattaforma dello Smart Village collegandoci a loro che è un progetto della regione che l'assessore anche segue e quindi stiamo creando tutto questo progetto. Io spero di essere stato nei tempi, ringrazio veramente tutti. Grazie direttore, ripeto è una conferenza stampa quindi le domande le passiamo ai... Io ho il dovere prima di passare la parola al dottor Salvi di precisare che Fermo non solo è un ospedale di primo livello ma ha specializzazioni di secondo livello, quindi ha delle specializzazioni che si attestano su ospedale di secondo livello. Questo è molto importante perché naturalmente valorizza la ricerca scientifica, la cooperazione con gli enti di ricerca e così via e quindi questo è necessario sottolinearlo direttore perché chiaramente faremo un torto diciamo così alle specializzazioni di così alta caratura scientifica. Prego Aldo. Sì, grazie Vice Presidente. Solo poche parole per mettere in evidenza alcuni aspetti già focalizzati dal Direttore Generale che però meritano particolare attenzione. Cioè quello che si può vedere dal... Io valuto essenzialmente diciamo gli aspetti clinici di questa presentazione e quello che si può vedere globalmente è una visione attuale, moderna dell'assistenza e dell'erogare salute. Come avete visto c'è una spinta verso ad esempio i day hospital e day surgery piuttosto che ai ricoveri veri e propri a livello ospedaliero. C'è un aumento della complessità, quindi ecco i ricoveri ospedalieri vengono effettivamente fatti per patologie veramente importanti e c'è anche la... diciamo questo aspetto del minor tasso di ospedalizzazione in particolare per quelle che sono le patologie croniche che sono citate due, la BPCO e lo scompenso cardiaco, tipicamente patologie che abitualmente si caratterizzano per ricoveri ripetuti, invece qui si vede che sono stati drasticamente abbattuti, come ha già messo in evidenza il direttore generale, per una efficace interazione tra ospedale e territorio e per un'efficace risposta della medicina territoriale. Questo è molto importante perché come faceva notare l'assessore qui, il vicepresidente, qui abbiamo delle realtà veramente clinico-assistenziali veramente importanti che fanno pensare a buoni punti di riferimento per la rete, per le reti cliniche della Regione Marche. Allora, non so se ci sono dei giornalisti collegati, non lo so, se chiaramente c'è qualcuno che vuole formulare domande e siamo qui per rispondere chiaramente. Posso? Ciao, buongiorno. Ciao, Raffaele Vitali. Guarda, ne pongo un paio abbastanza rapide. Una riguarda Amandola. Da questo punto di vista, a parte la classica e banale domanda se abbiamo delle tempistiche sull'apertura, se già si sta ragionando col personale, perché una sfida probabilmente sarà anche riportare il personale sanitario da Amandola che si è abituato dopo 6-7 anni a lavorare a fermo e magari ha rivisto le proprie vite. Quindi se si immaginano, non so, degli incentivi, insomma, a questo livello qui. L'altra cosa riguarda eventuali piani di crescita a livello di personale. Ci siamo visti poco tempo fa nel reparto di Macarri. Sappiamo bene che, ad esempio, Gastroenterologia, che è un'eccellenza, ha bisogno di medici e non solo. Quindi se anche da questo punto di vista abbiamo delle novità future. E la terza, che è più di visione, visto che abbiamo guardato le immagini del nuovo ospedale di fermo, se si sta facendo un ragionamento serio sul murri, perché ci sono tante parole che arrivano qua, chi ci vuole portare l'IRCA, chi ci vorrebbe spostare, se già c'è una visione. Grazie. Allora, io rispondo, per quanto mi concerne, per le questioni che mi competono. Poi passo la parola al dottor Grinta. Amandola riceve un trattamento assolutamente fondamentale, importante, perché si trasforma un ospedale di comunità in un ospedale di base, di sede di saggiata, ma è un ospedale per acuti, quindi è un ospedale con medicina, chirurgia, ortopedia, dei sergeri e soprattutto un pronto soccorso, che va a coprire la domanda di un territorio montano molto vasto che sconfina tra il Fermano, l'Ascolano e il Maceratese. Quindi questo non era mai stato fatto, l'abbiamo inserito nel piano sociosanitario e il dottor Grinta ha ricevuto l'incarico di portarli immediatamente all'esecuzione, quindi anzi, al termine di questa conferenza stampa gli chiederò a che punto è arrivato. Per quanto concerne quindi l'emigrazione dei medici, la migrazione verso Fermo, io credo che ad Amandola ci sia una bella opportunità per tanti giovani di tornare, perché non troveranno più il plesso che c'era precedentemente, ma troveranno un ospedale nuovo e penso che questo possa essere una sfida per dei medici che potrebbero svolgere da Amandola un ruolo assolutamente particolare. Quanto concerne il discorso IRCA o non IRCA, in questo momento è prematuro dirlo, noi sappiamo però che l'invecchiamento della popolazione in Italia fa sì che l'IRCA, che è l'unico istituto di ricerca e di ricovero a livello nazionale, debba essere potenziato per la sua missione sulla geriatria. Quindi diciamo che trasformare l'IRCA in un ospedale di territorio per acuti o post-acuzie, come qualcuno vuole, potrebbe essere un'idea sbagliata, ma noi naturalmente vogliamo salvaguardare la professionalità, semmai dobbiamo dare più risorse all'AST di Fermo per garantire che la domanda sanitaria possa essere soddisfatta. Io poi per quanto riguarda il personale vorrei anche aggiungere una cosa, il nostro Paese sostanzialmente dai governi che si sono succeduti, da Monti in poi, la crisi del debito sovrano, Monti eccetera, il servizio sanitario nazionale è stato potato di circa 45 miliardi, per la prima volta dopo tutti questi anni il fondo sanitario è stato aumentato nell'ultima legge finanziaria dal gabinetto Melondi di 3 miliardi, voglio subito dire che 3 miliardi non risolveranno i problemi, però sono 3 miliardi per il 2024, 2025 e 2026, ciò consentirà alle aziende di fare una programmazione, faccio un esempio, le carenze di medici e infermieri sono in tutti i reparti, perché il sistema italiano è sottodimensionato da anni, però partendo dalle emergenze più evidenti si può fare una programmazione, quindi nel 2024, facciamo un esempio, si dà sostegno a un certo tipo di specializzazione, nel 2025 ad un altro livello di specializzazione, nel 2025 ad un altro. Ecco, questo lo voglio dire, è un fatto che consente alle amministrazioni di fare una programmazione sul personale piuttosto rilevante. vorrei anche aggiungere che tutto il personale che è stato assunto è un segnale chiaro ed inequivocabile sull'esigenza e sulla finalità di potenziamento che la Regione Marche attribuisce all'azienda sanitaria di fermo. Vi faccio poi e concludo una domanda a me stesso, allora perché con il personale che è stato aumentato ci sono ancora dei servizi che stentano ad essere erogati, una famosa lista di famose liste, insomma. Il problema deriva da tutta una serie di questioni su cui noi stiamo ponendo mano, l'ha detto Grinta, per esempio l'esperimento di Porto Sant'Elpidio che tende a garantire i servizi territoriali è un esperimento a livello nazionale ed è stato preso a modello, per esempio nell'ultima conferenza che abbiamo fatto tra tutti gli assessori e i colleghi mi hanno chiesto che cosa fate, lì perché è un esperimento di successo. Adesso passerei la parola, l'altro tema è l'aumento della domanda. Noi stiamo facendo gli studi, c'è un aumento della domanda incredibile dovuto a due fattori sostanzialmente. Il primo, le prestazioni che sono state ammucchiate e non eseguite durante gli anni del Covid. Durante gli anni del Covid molti cittadini hanno rinunciato persino ad entrare negli ospedali per paura di essere contaminati e quindi questa domanda si è rivolta successivamente il 23 e il 24, tant'è vero che il governo ha predisposto le misure per il recupero delle liste d'attesa. L'altro tema è l'invecchiamento della popolazione. Dopo il Giappone e Monte Carlo l'Italia è la nazione più longeva al mondo. La longevità comporta chiaramente un aumento delle fragilità e delle patologie croniche e soprattutto la necessità di assistenza territoriale con gli infermieri e così via. Questa è una vera e propria rivoluzione, lo dicevo prima, una rivoluzione che porta, siamo in Europa, abbiamo l'euro in tasca, la Germania ad assumere i medici dell'Argentina. Il corso di infermieri è stato concertato dall'Argentina con la Germania, nell'ultimo anno si studia il tedesco e assumono questi infermieri. Ma guardate che questa tendenza e l'ultima riunione della conferenza dei servizi sarà seguita anche da Lombardia, Campania e Lazio. Quindi queste tre regioni, non riuscendo a coprire la domanda di infermieri, si stanno anche loro indirizzando verso l'assunzione. Le ragioni a concludo sono molteplici, chiaramente si dice c'è una scarsa appetibilità della professione, insomma c'è tutta una serie di motivazioni psicologiche, sociologiche a questo, io però devo dire che la Regione Marche invece è in grado di soddisfare la domanda perché le nostre scuole per infermieri, compresa quella che è presente sulla ST, sulla provincia di Fermo, è in grado di produrre il volume di prestazioni professionali che vengono domandate nella nostra Regione. Adesso sul piano di far bisogno del personale, non so se può rispondere. Grazie Assessore, buongiorno signor Presidente, buongiorno Raffaele, grazie per la domanda. Per quanto riguarda la gastro, abbiamo fatto l'avviso per nuovi medici, ne abbiamo già preso uno e ne prenderemo un altro. Per quanto riguarda la parte del personale medico, come avete visto i dati, sono dati sicuramente positivi e dobbiamo concentrare soprattutto il livello di assunzioni sulla mission e la vision che vi ho fatto vedere prima, dove vogliamo andare, sempre sulla base delle direttive del piano socio-sanitario regionale. Quindi per quanto riguarda il personale su Amandola, abbiamo già tutto fatto, il piano occupazionale e sono state già individuate le varie figure professionali, ma quello che ci interessa, quello che diremo sull'ospedale di Amandola, abbiamo già individuato quattro step di procedura per l'attivazione dell'ospedale. Quindi a ogni step, naturalmente, c'è del personale che deve essere stabilito. Per quanto riguarda l'ospedale Murri, è un ospedale che sicuramente il vecchio Murri, è un ospedale che dovrà essere fatto a un livello di interlocuzione fra le varie parti politiche, le varie parti interessate, anche i socio-sanitari, però è un ospedale che potrà essere sicuramente un punto di forza per il prossimo futuro, per tutto il territorio fermano. È arrivato il Presidente Acquaroli, a cui cederei subito la parola. Prego, Presidente. Sì, ma io non è che posso aggiungere tanto, anche perché purtroppo per un impegno non ho potuto assistere alla conferenza stampa. Mi limito a dire che è importante presentare il lavoro che le nostre aziende stanno facendo sul territorio per cercare anche di condividere quelli che sono i risultati, la missione e l'azione che quotidianamente migliaia di professionisti erogano e che devono anche rappresentare un punto di riferimento. In tante di queste conferenze stampa abbiamo scoperto e scoperto comunque compreso numeri importanti in termini di prestazioni erogate, in termini di accessi ai pronti soccorsi che ci fanno capire anche che il sistema può essere migliorato con una maggiore consapevolezza da parte dei medici di medicina generale, della struttura ospedaliere, dei distretti sul territorio perché più noi riusciamo a dialogare, a dare la giusta missione, più noi riusciamo anche a creare quelle informazioni utili ad abbattere le prestazioni che non sono diciamo che non sono di riferimento di pertinenza. Pensiamo agli accessi bianchi e verdi. Ieri eravamo a Civitanova Marche e in un anno ci sono stati 11.500 accessi a pronto soccorso tra codici bianchi e codici verdi. La proprietà della prestazione diventa un elemento importante. Io ho fatto un gioco con la calcolatrice, ho diviso quei numeri per i giorni dell'anno e parliamo di più di 30 accessi ogni giorno a pronto soccorso per codici bianchi e codici verdi. Se questi codici bianchi e questi codici verdi venissero anche seppur parzialmente trattati in altre sul territorio o in altre strutture noi ridurremo di molto l'impatto sul pronto soccorso e riducendo di molto l'impatto sul pronto soccorso in parte potremmo anche ridurre di molto l'impatto sull'ospedale. È chiaro che questo è un esempio banale e anche molto superficiale tra l'altro io non sono medico e non mi voglio improvvisare però deve essere chiaro a tutti che questo tipo di opera di azione è un'opera che tende a dare quella consapevolezza rispetto al lavoro delle nostre aziende e dei nostri professionisti e a cercare anche spunti per il sistema affinché il sistema si possa efficientare. la proprietà delle prestazioni e tante altre sfide credo che possano essere un primo grande obiettivo da mettere in campo per rendere non solo migliore l'efficacia del sistema ma anche per rendere migliore l'impatto che noi abbiamo nei confronti della nostra comunità. Io intanto ringrazio il dottor Grinta tutto il suo staff per la presenza qua a Ancona e poi tanto molto presto ci vedremo direttamente nell'ospedale di Fermo e di Amandola per gli incontri che riguardano la stesura degli atti agendati. Allora non so se altri giornalisti vogliono porre delle domande io se posso ne avrei un'altra visto che approfitto dell'occasione perché non posso esserci e mi dispiace perché amo farle live però sono altre due questioni purtroppo la dottoressa Bianchi che è appena stata trasferita anche lì un mese fa eravamo a Oncologia per un'importante inaugurazione della nuova sala di attesa e hanno dato dei numeri importanti sia di reparto che di crescita ai miei dei tumori e quello è un altro reparto che merita di essere attenzionato e anche qui questo per il direttore Grinta perché la dottoressa Bianchi ha preso degli impegni la domanda invece alla regione è anche sul discorso delle tecnologie anche lì c'è davanti a lei Lucentini che io non vedo ma è un tema che ci portiamo da quando era onorevole che è il famoso robottino robot che vogliamo chiamare che era atteso dal primario Ieia e ad altri professionisti e anche lì ci sono novità su quell'aspetto e il terzo invece è una considerazione che lascia Presidente Acquaroli perché parlavate di medicina smart village tanti comuni ci credono e io risottolineo una questione in molti di quei comuni non prendono i cellulari per cui agiamo sulle infrastrutture lo dico Acquaroli lo dico sempre anche a Castelli perché gli portiamo la tecnologia con la medicina nei bracci di tetro ma non prendono i cellulari questa è un'osservazione che lascio per altre tematiche parto io con Open Fiber allora Open Fiber negli ultimi due anni diciamo che ci sono state delle difficoltà oggettive riguardo all'infrastratturazione digitale però devo dire che dopo all'epoca c'era ancora il vicepresidente Carloni dopo una fase iniziale dove i cantieri andavano rilento c'è stata un'accelerazione importante e credo che la nostra regione arriverà entro un periodo sostanzialmente breve ad una copertura importante poi è chiaro che su Open Fiber noi possiamo fare moral su Ashon non abbiamo altri tipi di sì allora mi dice Lucentini che affermo Open Fiber ha quasi finito quindi l'informazione è utile allora chiamiamo Vodafone Team Wind perché comunque Open Fiber porta la fibra ma poi non prende sempre il cellulare lì bisogna mettere però i ripetitori ma la medicina cammina molto su Open Fiber per il collegamento sulla fibra grazie Presidente per quanto riguarda la parte dei tumori vorrei dare un'informazione nuova a Raffaele e anche la Presidente Segretario e anche Assessore che per marzo aprile potrebbe essere pronta la nuova sala per la preparazione dei chemioterapici è normale che noi su questo ci stiamo investendo è importante che è cambiato l'approccio delle neoplasie da parte dei professionisti non è più il singolo professionista ma è il team di molti professionisti che lavorano insieme per risolvere il problema perché non è più un problema di tipo del chirurgo dell'oncologo o dell'assistente dello psicologo bravissimo è un problema di team multispecialistico vi faccio solo un esempio prima il problema del pancreas che è un problema piuttosto importante che stanno un'incidenza molto elevata soprattutto in età giovanile purtroppo abbiamo questi dati l'approccio alla patologia è completamente cambiato in questi ultimi due o tre anni prima il rapporto chirurgico ora c'è tutto un approccio completamente diverso quindi voglio dire il messaggio è non pensiamo più a un modello organizzativo statico ma un modello organizzativo dinamico ed è proprio per questo che io credo in maniera forte nelle aziende sanitarie territoriale con la nuova legge regionale perché devono essere più attenti ai fabbisogni del territorio Aldo devi dire qualcosa ci sono altri giornalisti altre domande nessuno l'onorevole lucentini chiede che gestore hai che non ti prende il telefono bene la giro molto la provincia se il presidente e il dottor salvi vogliono intervenire io mi permetto di dire semplicemente una cosa fermo avrà uno degli ospedali più moderni d'Europa a Mandola avrà una delle strutture che mai c'era stata che copre le tre province non solo ci saranno le strutture ci sono anche le tecnologie d'avanguardia per quanto riguarda la questione robot è chiaro che l'azienda ha una sua autonomia organizzativa e finanziaria io credo che sia opportuno che queste altissime specializzazioni siano adeguatamente fornite di tecnologie avanzate la regione è a disposizione per quanto noi possiamo fare prego Presidente no io non devo giudicare niente va bene allora se non ci sono altre domande è una conferenza stampa quindi salutiamo tutti e ringraziamo grazie